Pagina Sport, ben trovati, compie mezzo secolo, mister secolo. Oggi è infatti il compleanno di Lorenzo Bernardi, coach della Sirsefety Perugia tricolore. Lorenzo Bernardi, icona della pallavolo mondiale, i suoi 50 anni, nato a Trento l'11 agosto del 1968. Ha legato la sua storia sportiva quest'anno al fantastico trionfo con la Sirsefety Conad Perugia, con la quale si è laureato campione d'Italia vincendo un fantastico triplete nazionale, mettendo insieme anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Lorenzo Bernardi ha vinto tantissimo in carriera, un campionato del mondo con la nazionale azzurra, ha andato più volte vicino a sfiorare un successo che manca alla pallavolo italiana, cioè quello dell'Olimpia, debattuto due volte in finale alla tiebreak Unitalia, quella della generazione dei fenomeni, che proprio aveva in Bernardi una punta di diamante. Tanto che la Federazione Italiana del Volley a livello internazionale lo ha eletto miglior giocatore di pallavolo del XX secolo, da qui appunto il soprannome Mister Secoli, insieme allo statunitense Karch Kiraly ed è per questo che è considerato come il pallavolista più forte di tutti i tempi, oltre che simbolo dell'Italia chiamata generazione dei fenomeni. Tantissimi trionfi nella carriera per Lorenzo Bernardi. Poi la grande chance a Perugia, in cui è stato chiamato a guidare la Sirsefety, nella prima stagione ha conquistato nel secondo posto in Champions League, ma l'anno scorso è stato quello del trionfo con Bernardi, che ha messo in campo tutto il suo talento e la sua esperienza per condurre la Sirsefety ai trionfi, di cui sapete tutti, con la giunta del terzo posto alla Champions League. Auguri dunque ad un'icona della pallavolo italiana e dello sport italiano che ha legato indissolubilmente il suo nome all'Umbria.